Comanda ai nostri concittadini di tutta Italia, io parlo di Alberto, di Alberto Mario, nato in mezzo a voi e che vi onora come una delle più belle figure della nostra Italia. Io poi vi sono ancora riconoscente per la benigna vostra condiscendenza nel nominare a vostro deputato il colonnello Cervi, perché a Cervi vi offre tutte le garanzie di quella fermessa di principi che ora più che in ogni altro tempo è necessaria alla patria. Cosa volete che vi dica di più? Noi dobbiamo ancora liberarsi da altri nemici e che se non pensiamo di mettere al dovere lo Stato di preti per prenderci Roma potremmo correre gravi pericoli. Voi non mancherete, lo so, al dovere vostro. Quanto a me, sebbene vecchio, mezzo dopo come sono, vi prometto di essere sempre con voi. Vi ripeto che sono gratissimo alla cara accoglienza e alla cittadinanza che il vostro sindaco mi ha onorato qualche tempo fa. Vi ripeto che sono gratissimo, è stata una grandissima accoglienza e che serverò per sempre nella mia memoria. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Grazie 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 Grazie